Aprire la porta di casa, scendere in strada al parco per fare filò, un modo di dire semplice, con cui si racchiude quella scena tipica dei vicini di casa che si riuniscono per chiacchierare del più e del meno vicino all'abitazione. Un'abitudine che rischia però di scomparire, soprattutto con i cambiamenti sociali in atto anche a Ferrara, cambiamenti repentini delle abitudini. Da una decina di anni nella città estense però i dipendenti dell'Acer, l'azienda Casa Emilia Romagna, insieme al comune di Ferrara, vogliono mantenere viva questa buona prassi e lo fanno organizzando un appuntamento ormai tradizionale nel calendario di eventi cittadini e soprattutto un'iniziativa molto apprezzata. Venerdì 25 maggio 2018 torna la festa dei vicini al barco, un pomeriggio all'insegna del divertimento per avvicinare i residenti e invitarli a uscire di casa per stare insieme e conoscersi meglio. I volontari che organizzano la festa dei vicini sono coloro che lavorano all'Acer di Ferrara. Già quando comincia il bel tempo cominciano già le prime telefonate in cui cominciano a chiedere ai nostri utenti quando, come si farà la festa perché appunto è un momento in cui magari i vicini che tutti i giorni si vedono sul pianerottolo possono sedersi in giardino e mangiare qualcosa insieme. Diciamo che viene dato l'input in quel momento per organizzare appunto la festa ma è una prassi che dovrebbe essere poi consolidata tra tutti i nostri assegnatari, quella di scambiarsi magari due chiacchiere sul balcone, condividere una ricetta, giocare insieme con i bambini. Quindi diciamo che noi diamo una sorta di vademecum di come si dovrebbe organizzare un pomeriggio tra vicini per far sì nella speranza che questo poi venga utilizzato sempre e quotidianamente proprio anche per cercare di risolvere tanti piccoli problemi che molto spesso sono legati anche a piccole incomprensioni. Quindi quel momento lì è un momento in cui tutto viene messo da parte, ci si diverte, ci si gioca, ci si gioca insieme, si condividono momenti festosi di allegria. Rispetto ad altre realtà sappiamo che Ferrara è un po' un caso a parte perché c'è molto impegno da parte vostra e anche molta partecipazione per chi vive il quartiere. Certo, tutti i dipendenti di Acer partecipano fattivamente all'organizzazione della festa proprio con un impegno sia durante l'orario di lavoro ma anche extra orario, quindi in una sorta di volontariato che vede impegnati tutti i rappresentanti appunto di Acer nelle attività più disparate appunto dalla organizzazione preventiva quindi che vede anche ovviamente con una fattiva collaborazione del comune e per anche il reperimento dei permessi necessari all'utilizzo degli spazi pubblici, occupazione di suolo pubblico eccetera, al proprio all'organizzazione quindi alla individuazione di eventuali artisti che possono anche esibirsi e quindi animare la festa nel senso vero e proprio alla quindi la preparazione all'allestimento del buffet perché appunto si intende anche effettuare una serie di intrattenimento, giochi per bambini, tombola, la gara delle torte e quindi anche proprio ci sarà quindi una partecipazione a tutti i livelli per questa organizzazione quindi è molto sentita a Ferrara questa realtà. Ecco, come uscire dagli uffici, scavalcare lo sportello e mettersi in mezzo alle persone che voi tutti i giorni insomma avete a che fare con il vostro tipo di lavoro? Certo, ci sarà un tipo di contatto diverso da quello che può essere la telefonata o il ricevimento nell'ufficio perché avremo proprio un approccio più diretto e più personale con tutti gli inquilini delle nostre case e ci sarà appunto proprio questo confronto sia generazionale che di etnie in questo quartiere appunto dove si svolgerà la festa dove appunto ci sono rappresentanze delle varie generazioni diciamo gli anziani residenti e nati quindi a Ferrara con il mix sociale di razze che popolano i nostri fabbricati. E quindi diciamo che abbiamo la speranza come finora è sempre capitato che sia una festa molto sentita abbiamo fatto diverse feste sia al barco che anche in altre zone come la zona di via Bologna dove magari diciamo così fabbricati diversi hanno partecipato anche con modalità diverse però sempre molto attivamente e tra diversi spettacoli per i bambini, commedie dialettali, gara di torte, tombole abbiamo visto che è un mix riuscito insomma e quindi c'è molta soddisfazione da parte dei nostri utenti. Animazione, musica e giochi insomma per un pomeriggio all'insegna della condivisione per indurre i residenti della zona, le famiglie, gli anziani e i bambini a uscire di casa, stare insieme, conoscersi meglio e vivere meglio insieme perché i vicini di casa da che mondo è mondo possono essere una risorsa, un aiuto, un conforto possono essere persone gradevoli con cui trascorrere un pomeriggio di festa. Grazie